Questa è una raccolta firme che vuole puntare ad avere l'assistenza essenziale ed aumentare soprattutto i parametri. Si svolge in tutta Italia, verrà presentata in Parlamento. Allora, quali sono i punti fondamentali? Quello che chiediamo è una sanità alla portata di tutti, senza distinzione di classi sociali, un adeguamento dei LEA ai livelli essenziali di assistenza, una riduzione delle liste di attesa. Ci stiamo battendo molto per l'adeguamento del contratto nazionale. Abbiamo i contratti bloccati da più di dieci anni. Inoltre stiamo chiedendo l'infermiere di famiglia un ospedale più territorializzato e meno centralizzato nei presidi ospedalieri, un abbattimento delle liste di attesa. Quello che chiediamo anche, soprattutto per il comparto, è l'abolizione dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, finalizzato praticamente alla libera professione, anche per gli infermieri, i tecnici, per evitare comunque intassamenti nei vari ospedali. Una cosa che rivolgiamo anche all'assessore regionale Silvio Paolucci della Sanità, chiediamo maggiore affluenza sul territorio. Quello che stiamo chiedendo, presenteremo questa proposta in Parlamento per fino a gennaio.